che cos'è bandersnatch è un episodio di black mirror di cui si è parlato moltissimo a causa dell'interattività non è una novità come molti hanno sostenuto di interattività negli prodotti audiovisivi si parla almeno dagli anni 80 addirittura si parlava di interattività letteraria nei cosiddetti libro game che cos'è che ha attirato così tanto il discorso su bandersnatch il fatto che si tratti di un episodio di black mirror su netflix e che solleciti l'attività dello spettatore su questo io dico subito che non sono particolarmente d'accordo l'interattività dal punto di vista delle scelte narrative che ti vengono imposte come spettatore è più un problema che un'opportunità siamo abituati con netflix a essere molto più passivi diciamo viziati dal fatto che netflix sceglie per te sceglie per te i titoli in qualche modo con l'algoritmo sceglie per te addirittura il passaggio da un episodio all'altro senza che nemmeno tu faccia la fatica di cliccare sul sul mouse del tuo computer quando guardi netflix qualcosa su netflix vuoi stare tranquillo vuoi lasciarti trasportare da quello che stai vedendo e molto probabilmente l'interattività che ti viene richiesta da un episodio come quello di bandersnatch è un'interattività un po faticosa è più interessante quello che fai di quello che ti viene raccontato e solitamente non è quello che si chiede né ad un film e né ad una serie televisiva quindi in questo caso il percorso è molto più importante molto più rilevante del di quello che accade però allo stesso tempo quello che che ti viene chiesto di fare non è nemmeno particolarmente divertente diciamo la verità è qualcosa di molto chiuso dal punto di vista delle opzioni e anche di molto macchinoso dal punto di vista del tuo intervento fisico sul progetto sul prodotto io sono abbastanza d'accordo su chi sostiene che alla fine dei conti si divertano moltissimo i giocatori di videogame si divertano molto meno gli appassionati di serialità o di cinema e tutto sommato si diverta molto netflix perché traccia tutte le nostre scelte che poi alla fine credo l'obiettivo principale di questo esperimento promosso dal punto di vista della possibilità di inventare dei percorsi nuovi bocciato per la modalità con cui questi percorsi nuovi sono stati messi messi in forma in questo particolare episodio si può fare forse qualcosa di meglio